Ciao a tutti, oggi prepareremo la ciambella all'arancia e ricotta. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono zucchero, una fiala d'aroma d'arancia, la scorza d'arancia, uova, olio di semi di girasole, farina di tipo 00, ricotta, lievito per dolci vanigliato, vanillina e gocce di cioccolato. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e la scorza d'arancia. La facciamo polverizzare per 15 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere le uova e l'olio. ed azioniamo il bimbi per due minuti a velocità 4. aggiungere la farina, la ricotta, la vanillina e l'aroma di arancia. Ed azionare il bimbi per due minuti a velocità 5. aggiungere il lievito ed azioniamo il bimbi per 30 secondi a velocità 5. aggiungere le gocce di cioccolato ed azioniamo il bimbi per 20 secondi anti-orario velocità 3. trasferire il composto in uno stampa a ciambella da 24 centimetri ben imburrato. cuocere in forno preriscaldato statico a 170 gradi per 40-50 minuti circa. Fare sempre la prova a stecchino. la ciambella è cotta lasciare raffreddare completamente prima di rimuovere dallo stampo. ciambella all'arancia e ricotta grazie e alla prossima ricetta la ciambella è città. grazie